È il fatto che loro, il bambino che hanno avuto, è stato fin dall'inizio, è stato ancora in pancia, è stato già progettato per Instagram. Cioè questo bambino manco era nato, era già su Instagram con le cose e poi ha continuato dopo. Cioè noi ogni giorno vediamo crescere il pupo. Beh però non soltanto loro, ci sono tanti genitori che esibiscono i propri bambini. Sì però se poi lo vesti con quella marca, quell'altra marca, campagna varia, cioè uno può anche sollevare il sopracciglio. Dolcetto o carbonetto? Ma io carbone, carbone, carbone. No Roberto, non sono d'accordo. No a me guarda, sui figli, a me sui figli mi dispiace, scusate anche, io sui figli a me non mi piace. Ma è talmente bello dai.